Il Paradiso delle Signore 7, la Colombo potrebbe riconsolidarsi negli Stati Uniti. La settima stagione del Paradiso delle Signore viene trasmessa da lunedì al venerdì alle ore 16.05 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano, nata da un'idea di Gianna Andrea Pecorelli. Riguardano gli episodi che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 febbraio, le anticipazioni raccontano che la notte di passione trascorsa assieme a Gloria, Lara Kumar, sarà motivo di disagio per Teresio, Massimo Poggio. Soprattutto quando quest'ultimo si troverà in famiglia. Entrambi i protagonisti della parentesi Fucosa decideranno di sfogarsi con i loro amici, da una parte Ezio si confiderà con Vittorio, Alessandro Tersigni, e dall'altra parte Muro farà lo stesso con Armando, Pietro Genuardi. La capocommessa, inoltre, vorrà dire come sono andate le cose a Veronica, Valentina Bartolo, ma ci ripenserà poco prima di recarsi a casa della stessa. Notando che Ezio non le darà alcuna certezza sentimentale, Gloria deciderà di partire per 14 giorni ma l'uomo, venuto a conoscenza di tale viaggio, sorprenderà la moglie con un'azione inaspettata. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, la famiglia Colombo potrebbe riconsolidarsi negli Stati Uniti. La relazione amorosa tra Veronica ed Ezio, alla luce delle ultime vicende, sembra essere sempre più in bilico. Considerando che, entro il termine della stagione attuale del Paradiso delle Signore, la signora Zanatta terminerà la storia sentimentale col compagno, viene naturale ipotizzare che tale rottura potrebbe avvenire a breve. Dopo essersi scambiati un bacio ed essere andati anche a letto insieme, sembrano non esserci più dubbi che Ezio e Gloria si amano ancora o? Come molti telespettatori credono, non abbiano mai smesso di amarsi nell'ultimo ventennio anche se distanti. La crisi sentimentale tra Stefania, Gras Ambrose, e Marco, Moise Curia, porterà il giovane giornalista. Nel corso degli episodi finali del capitolo in essere della SOP, ad essere sovente rabbuiate e a confidare le proprie paturnie amorose all'ex fidanzata Gemma, Gaia Bavaro. La scrittrice, invece, sembrerà non cruciarsi e concentrarsi principalmente sul successo relativo al libro scritto e sul tour mondiale per promuovere lo stesso. Tale differenza di vedute lascia presagire che un ritorno di fiamma tra i due sia poco auspicabile. Di conseguenza, il ritorno a Milano di Stefania, il quale avverrà a termine del Paradiso delle Signore 7, sarebbe soltanto momentaneo, con la ragazza che tornerebbe in quel di Washington poco dopo. Se queste ipotesi dovessero divenire realtà nella fiction di Rai 1, Ezio e Gloria potrebbero decidere di valorizzare il loro amore ritrovato trasferendosi in pianta stabile negli Stati Uniti. Così da stare accanto alla figlia Stefania, Ezio sancirebbe il riconsolidarsi della famiglia Colombo. Così da stare accanto alla figlia Stefania, Ezio sancirebbe il riconsolidarsi della famiglia, Così da stare accanto alla figlia Stefania, Ezio sancirebbe il riconsolidarsi della famiglia,